L'alchimia tra musica e cinema al Viterbo Jazz Up Festival ha ospite d'onore il regista Pupi Avati. A Santa Maria delle Fortezze il cineasta si è raccontato al suo pubblico. Le colonne sonore dei suoi film hanno fatto da filo conduttore all'incontro. Cinema e vita si fondono nelle opere del regista bolognese che ha regalato tanti lungometraggi memorabili alla cinematografia italiana. Spezzoni di film e tanti ricordi nella serata viterbese.